Bella a tutti ragazzi, io sono Ditto e benvenuti in questo nuovo video delle Bedwars. Oggi siamo in compagnia di Alezio. Alleluia! Io sono già lasciato un bel video. Iscrivetevi! E allora, andate a fare l'ina, perché in tanto il video portavano un po' di problemi. Sì. E poi arrivate tutte le nostre notifiche, tutti i nostri video e le attivate la campanella. Quindi, iniziamo con le Bedwars. Ok, è iniziata la partita. Vieni d'oro. Aspettiamo il ferro. Tu, mi raccomando, copri sempre il letto. E ti hanno detto sotto nei commenti che non devi stare AFK nella base. Io sono stato molto felice, perché un più grandissimo amico di METI, mi raccogando un po' di domanda perché mi ha detto su YouTube, si mi clandare. Come vincere la partita e mi dice guarda come vincere. Allora io sono arrivato a diamanti. Quali diamanti? Uno Perché ancora non c'è il pronunciamento per i diamanti Tieni Stai a dire l'idea Tieni il pezzo d'oro Allora Prendiamo i diamanti Allora I bianchi stanno venendo da noi Uno è caduto Bene i diamanti E Betto prende il diamante Aspetta Non devono vedere da noi a fare i bianchi Io ci sto andando Dai dai Dovrò proteggerci il netto Non me ne frega Ci vado all'attacco Manto Ale Stanno a dormire questi Stanno a dormire tutti e due sul ponte Stanno a dormire Allora io sono nella base loro Ok so caduto nel vuoto Perfetto Perfetto Metti i diamanti Aspetta Rammela d'oro Qualche blocco Perché non mi erano abbassati i blocchi Ok Ci sono Ok aspetta 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 C'è il bianco qui C'è il bianco qui È bello forte Stalla Non morire C'è un rammela d'oro È morto Ok sto a recuperare la vita Vieni Ma non mi fai ammazzare Cioè Ok è morto Allora lascia a dormire l'oro qua per terra Tieni il diamante Tieni questi due diamanti Uno lì Uno qua Vesi due Stare bene eh C'era l'attacco Ok è caduto C'è quest'altro però non riesco ad affrontarlo perché ho poca vita Non l'affrontavo Allora Fai qualche potenziamento eh Allora Ci arrivi un altro pezzo di oro per farmi la mela Mi hai facciato dai grigi Che ne dici Guarda Grande Grande mi sa che il letto è libero No mi compro un piccone e vado nella base dei grigi Era libero Già Ma lo sai Ma lo sai Ma lo sai La ricoprì Sì con la lana Vabbè con la lana Io provo a mandare dai grigi Sperando che non mi vedano e che non lagga Allora Quanto manca ancora Ok sono quasi arrivato nella base loro Non mi hanno visto Non mi hanno visto Il letto loro è andato L'ho ammazzato anche uno Ok Ho ammazzato tutto il team Il letto è andato e loro sono andati Ok Tanto i blu e i grigi sono andati già Ok Mi servono 30 pezzi di ferro e i bianchi forse saranno andati Speriamo Perché Ma che ho andato l'armatura di livello 2 Ah l'armatura di livello 2 Sì Ok Non mi hanno dato il messaggio Strano Poi Poi ho una fireball Spada di ferro Ok Tieni Tieni questo Tieni questo Sta venuto il blu Sta venuto il blu Eh sì da lontano Adesso possiamo stare in base nostra Ok no Buttalo giù Ho fatto perdere il piccolo Io vado eh Ho fatto perdere il piccolo Io vado Che base di bianchi Sì Ok Vai vai Se viene qualcuno Corri veloce Servono dei blocchi Ok tieni 32 Tieni Tieni Cosa Ok Con questo diamante Che era il mio E Aspetta Voglio fare il penzimento con la spada però Tienetti Poi Altri blocchi Provo a venire con te eh A me in base Non mi piace sta Quanti diamanti ci sono? 3 Perfetto Aspetta adesso Se aspetti un attimo Ok niente Se stavo a fare il coso Eh mi serve un altro diamante però Per fare il penzimento con la spada Sei morto? Eh Nuovo provo ad andare nella base loro eh Se prendi un diamante E faccia un penzimento con la spada Che stanno proprio qui davanti i diamanti eh Ho lasciato 37 39 40 Ok Fare il volo E qui davanti e qui Guardate dove? Qui ci sono 3 diamanti Che serve un diamante per fare quello per la spada Io ci vado eh Ho abbastanza cose per andarci Mi hanno tirato la farciorce Prendiamo un po' di risorse Su che c'è Se gusta che fai qualcosa e ben l'alana Se gusta Le volo di quello se Si